Non ci siamo, io vedo un campo vuoto, non c'è nessuno che gioca, un tombino, dove siamo? Buongiorno, non c'è nessuno, zero, oh mio dio, noi siamo in rosso, perché siamo? No, tu sei nel blu, perché siamo in grado? Cosa succede? No, lui è nel rosso, siamo quattro rossi contro due blu, va bene così, mi va la sportività, aia, yeee, l'ho fatto col, poi sono morto, ma come cavolo c'è l'ha il cappello in testa, uno dei blu, guarda, c'è il flutto qua, ah, e poi perché il preto non dobbiamo essere nell'angolo? Inizia mollando la vecchina te, vedete che picchio a testata quello lì nell'angolo, prendi la palla, come faccio se ho una gente in mezzo? Come si prende la palla? Faccio il bar col tipo, guarda, porta, cosa fate? Dai, vai, 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 vecchia! No, non l'ho presa, no, non l'ho presa! Ho preso il cancello, quella non è la palla! Lasciami, lasciami! Questa è una questione di principio, tra me questo qui! Visto che per gol che ho fatto mamma mia! Guarda quanto gioca hanno questo! Ma perché mi picchia se siamo nei rossi? Mettimi giù! Ehm, questo ce l'ha con me, ce l'ha! Tanto io sto costruendo il cancello! No, ragazzi, ci facciamo autocorco così, no? State buoni! No! No, Sali, questo sei te! No, questa non è la palla! Ma perché ce l'ha con me questo qua? Ma lasciami, porca cazzozza! Senti un attimo! Mettimi giù! Molla, ragazzi! Ragazzi, prende la porta, però non posso fare gol! Che poi siamo nella stessa squadra, perché? Perché non ti molla? È un idiota, questo! Mettimi giù! No, l'ho capottato! Oh, no! Ma è che io voglio portare il truffo a qualcuno? Ma è che è sta cosa? Cosa sta succedendo? Vai a fare gol! Leeeeee! Pensate che scappa prima che mi prende di nuovo? Cosa deve diventare? Io faccio gol! Devo! Ma cosa fate facendo? Mi sento male! Mi hanno parlato più al tipo, ne abbiamo perso uno! Mi sto pigliando a cartoni il tipo qua! Sto pigliando! Dai, vieni con me, ti porto in trionfo! Io continuo a fare gol! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Non la faccio più! Ahia! Sono fatte capace! Ma se mi attacco qua, posso arrampicarmi? Me ne vado! Me ne vado! Ahia! No! Oh no! Ma è una rizzo! Aspetta! 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 Dai fai un gol tu, va! Io ne ho fatti tipo 7-8 di gol! Io gli sto facendo un casino! No! Cosa fai? Lasciami! Ah no! Fammi fare gol! Un po'! Vai a fare il portiere! 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 Avrei dato un bado di gruppo! No! Anche questo mi riprende! Ahahahah! Non ho tanto la messa e l'è presa con me! Ahahahah! E' perchè stanno litigando pure quegli altri due! Ahahahah! Già! Ma allora dall'inizio della partita! Non so! Esatto che sì! Non c'è vero! Ma che lo ha preso il cappello? E stai lì! Ahahahah! Ahahahah! Aiuto! No! Ha preso me! Ahahahah! Aiuto un prete! Con la colla! Ahahahah! Quei due si melano di pronto! Usare i semi molli magari! Ahahahah! Adesso ce la con te! Ahahahah! Ahahahah! Un po' per uno dai! Io vado a fare golf! Ah si ma tu sei dei blu Ale! Ma non è dei blu è dei rossi! No! E' dei blu! Non vedi che cosa... Guarda la faccia! E' rossa! Sei sicura? Sì devi guardare! Aiuto! Arrivano dei blu! Sono rossa! Sì la faccia rossa! Cosa sta facendo quello la con me? Eh? C'è non lo so! Guardate! Io vorrei solo dire! E tu perché... E beh sì! E' arrivato! Un orge! Un orge! Un orge! Gera! Stava facendo cose sconce! E tu me le lasci fare però! Comunque siamo rossi contro rossi a quanto pare inizio da questa schermata!